E' bello poter dire Ben tornati a Fashion Music Club Television Sono Pagani, c'è sempre il capitano Roberto Milani Pronto a salire in macchina per portarci in giro per l'Italia Oggi andremo in uno dei locali più importanti della musica tecno in Italia Sto parlando del Duplè C'è la partenza ufficiale del tour Tecno Love Dove appunto proprio Killer Faber sarà protagonista Quindi velocemente parte Fashion Music Club Television Tecno Love Tour Fashion Music Club Television Sponsored by Rigatoni Formentera Yes, your everyday superhero Siamo entrati nel pieno dell'atmosfera del Duplè Il Duplè è a pochi chilometri da Ulla In provincia rimasta precisamente in una località che si chiama Serricciolo Il Duplè è sempre stato considerato il locale mito e culto per eccellenza Da tutti i giovani d'Italia e non solo Dove la musica si fa magia I sogni diventano realtà dove regna la tendenza Lo slogan divenuto famoso in tutta Italia Che fa urlare la pista al Duplè è Duplè Paura Uno slogan che sentiremo anche nella puntata di oggi Chiudo con una curiosità Pensate che il logo della discoteca Duplè Nacque casualmente nel 1989 Un barattolo di vernice si rovesciò E su questo vennero disegnate le famose figure danzanti Ed ora entriamo nel vivo della puntata di oggi Con l'anteprima di Tecno Love Tour Linea a Killer Faber Fashion Music Club Television Il club più esclusivo d'Italia Il club più esclusivo d'Italia Questa sera da uno dei locali più importanti per la musica Tecno Il Duplè di Aulla C'è l'anteprima del Tecno Love Tour Il Tecno Love Tour è un format pensato e ideato da Killer Faber Che verrà portato nei migliori club nazionali ed internazionali Nelle piazze e nelle location tipiche dei grandi festival della musica elettronica Al Tecno Love Tour si esibiranno in console Oltre a Killer Faber Anche Xander Dorn e Plastic MC Il tutto con le coreografie esclusive del Tecno Love Animation Team Killer Faber ad oggi è uno dei dieci DJ italiani più famosi nel panorama Tecno Dagli anni 90 ha portato i suoi set Tecno Nelle console più prestigiose come Fabric di Londra Amnesia e Space Divizza Coco Rico Ultra Music Festival Street Parade Love Parade E moltissimi altri Totalizzando una presenza in oltre 11.000 club ed eventi Queste sono le immagini di questa notte e l'atmosfera di Tecno Love Tour Tra poco in tour in tutta Italia Tecno Love 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 Allora io direi subito Benvenuti all'inferno e nel vostro intimo pezzone Benvenuti all'inferno Benvenuti all'inferno Benvenuti all'inferno Grazie a tutti. 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 Il club più esplosivo d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.